Sarà una 46esima edizione all'insegna delle novità, quella del trofeo Beppe Viola, torneo calcistico riservato agli atleti under 17 in programma d'arco dal 9 al 14 marzo. Quest'anno si giocherà nei campi di Arco, Chiarano, Varone e Mori, ma l'attenzione intorno all'evento andrà ben oltre i confini territoriali. Tutte le partite saranno infatti trasmesse in diretta streaming. L'evento amplifica così la sua esposizione mediatica, attraverso una accurata distribuzione multicanale su reti televisive, portali web e social media, che ne diventano il più potente strumento di promozione e di conoscenza. L'organizzazione è intanto preso atto, con rammarico, della rinuncia della Southampton, comunicata con una lettera ufficiale di scuse del club inglese, dove spiega che una serie imprevista di circostanze ha dimezzato la squadra, tra infortuni e convocazioni nella selezione nazionale, impedendo di schierare ad arco una formazione competitiva. Sarà in compenso un altro club di grandi tradizioni, il Bologna, a riempire la casella rimasta vuota. L'Atalanta, detentrice del titolo, sarà nel girone A con Bologna, Napoli e la rappresentativa della Lega Pro. Nel girone B, Empoli, Chievo e rappresentativa di rettanti cercheranno di rendere dura la vita alla Roma, una delle favorite del torneo. L'Inter è nel girone C, con Verona, Torino e i danesi del Nordgelland. Attesissimo nel girone D, il quotato Partisan Belgrado, al cospetto di Sassuolo, Lazio e della rappresentativa allievi del Trentino.